La città e l'ambiente, in particolare l'accezione sulla mobilità sostenibile, cosa sta facendo la città di Cagliari? Abbiamo investito tanto nel corso dei 5 anni precedenti, nella consigliatura precedente, stiamo continuando in questa direzione, forti di un dato positivo, cioè la presenza nella nostra città, in parte della città metropolitana, ma con l'intenzione di voler estendere il servizio dell'azienda di trasporto pubblica del comune di Cagliari, che eroga un servizio di trasporto efficiente, sostenibile, con mezzi nuovi, con incentivi che abbiamo ottenuto nell'acquisto di nuovi mezzi, totalmente elettrici, nella sperimentazione quindi col progetto Zeus di mezzi totalmente elettrici del trasporto in città, con una connessione che stiamo potenziando nell'ambito della città e quindi una serie di interventi che vanno nella direzione di bike sharing, car sharing, già presenti ma da potenziare nel corso dei prossimi mesi e anni, trasporto pubblico locale, realizzazione di luoghi pedonali e tante altre iniziative per la mobilità sostenibile.